Tepering, Fed, guerra, tassi di interesse, inflazione, macroeconomia, Covid, questi sono solo alcuni degli aspetti che stanno influenzando in questo momento sia il settore delle criptovalute che il settore della finanza tradizionale, ma come vediamo il nostro caro amico Bitcoin esiste sempre, qualsiasi cosa capiti, un Bitcoin vale sempre un Bitcoin. Quest'oggi come al solito andiamo ad analizzare il re delle criptovalute e andiamo a vedere alcune notizie relative ad alcune altcoin subito dopo la sigla, benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Tutto quello che vedrai in questi video non sono consigli finanziari, sono solo opinioni personali che danno sempre un tuo ulteriore approfondimento. Allora andiamo subito a vedere il grafico di Bitcoin, ci troviamo a 42.200 dollari circa, qui ho tracciato delle trend line, in questo momento sembra si stia appoggiando su questa, vediamo come andrà, come si evolverà la situazione. Dobbiamo naturalmente fare i conti con diversi fattori macroeconomici che possono essere la guerra, può essere il tapering, può essere l'inflazione USA, può essere il Covid, può essere l'imminente e probabile guerra fra Russia ed Ucraina. A questo punto quindi vedere dei rialzi importanti di Bitcoin potrebbe essere difficile anche perché c'è una situazione di panico generale. Oltre a questo per il 16 di marzo è prevista la fine degli acquisti di asset da parte degli Stati Uniti d'America per combattere la crisi ed inoltre sapete benissimo che è previsto l'aumento di tassi di interesse da qui a breve. Detto questo, quindi vedere un Bitcoin forte è davvero complicato, proprio per questa settimana secondo l'intelligence americana potrebbe addirittura essere prevista l'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina ed avevano dato addirittura una data, ossia il 16 di febbraio. Questo probabilmente e difficilmente avverrà, visto che la sappiamo noi, difficilmente quindi sarà il 16 di febbraio realmente e vediamo insomma come si evolverà. Questo è un cigno nero? No, non si può chiamare cigno nero in quanto il cigno nero proprio per la sua definizione è un evento non prevedibile. In questo caso la guerra è un evento probabile, quindi è un evento prevedibile, quindi non si può chiamare cigno nero. Ad ogni modo sicuramente non fa bene ai mercati nel breve termine, questo è poco ma sicuro. Ora adesso non so quello che effettivamente avverrà perché naturalmente nessuno lo sa, ad ogni modo io credo che facilmente potremmo andare a ritestare questa trendline qua sotto, quindi riandare in zona 40.000 dollari e poi eventualmente vedere dei rialzi piuttosto che una lateralizzazione. Se andiamo a vedere il grafico settimanale capiamo assolutamente che non è una inversione di trend, quindi ci troviamo sempre insomma in zona ribassista, non abbiamo assolutamente invertito il trend che ci portiamo avanti dai primi di novembre, da metà novembre e quindi per il momento non è capitato nulla. Potremmo quindi continuare a vivere una situazione di incertezza anche nelle prossime settimane. Andiamo a vedere CoinMarketCap, vediamo quello che è capitato, questa settimana Bitcoin ha perso uno 0.80%, direi un 6.5%, BNB 7.5%, come vediamo in questo momento le altcoin stanno andando molto peggio rispetto a Bitcoin, vediamo Solana un 20% di rosso, Cardano un 12%, Luna diciamo si è salvato con solo 10%, DOT meno 17%, Crypto.com tutto sommato regge stabile con 0.88%, visto probabilmente il suo marketing aggressivo che sta sfruttando in questi periodi. Anche Polygon perde un 10%, Cosmos vediamo che perde un 18,50%, benché graficamente sembra essere messa meglio delle altre così come Luna. Secondo la società di analisi on-chain sentiment sono aumentati di gran lunga gli indirizzi di Bitcoin e solamente un aumento di questi indirizzi precede solitamente un aumento dei prezzi di Bitcoin, come vediamo in quest'ultimo periodo sono aumentati, sono in aumento. Quindi questo potrebbe essere un ottimo segnale per vedere un rialzo dei prezzi di Bitcoin, significa che Bitcoin viene utilizzato maggiormente, un maggior utilizzo di Bitcoin dovrebbe andare di pari passo con un aumento del valore di Bitcoin. Vediamo se sarà così o meno. Il CEO della DBS Bank di Singapore ha detto che entro fine anno la banca è pronta ad accettare il trading di criptovaluta anche per gli utenti retail. Già adesso attualmente è possibile farlo per alcuni investitori accreditati, è previsto che per la fine dell'anno, una volta insomma che ha sistemato tutta la parte burocratica relativa anche ai sistemi di antiriciclaggio, ha previsto che entro la fine dell'anno verrà aperta la possibilità a tutti i correntisti della banca di acquistare e vendere criptovaluta. In quest'articolo invece dell'Utoday Charles Hoskinson dubita che il Bitcoin sarà la valuta di riserva mondiale, pensa a questo perché il suo crescente consumo di energia contribuirà ad aumentare la centralizzazione. E lo stesso Hoskinson afferma che non è impossibile per Cardano avere la capacità di diventare lui la riserva mondiale. Per farti un paragone di come si dice a Roma è come andare dall'oste e chiedergli com'è il vino, ecco questo è un po' quello che ci sta dicendo Hoskinson. Questa invece è una notizia che riguarda Ethereum o meglio indirettamente Ethereum prevalentemente riguarda Optimism, il suo Liar 2. Un ingegnere Jay Freeman ha trovato un bug su Optimism con il quale è possibile stampare illimitate quantità di Ethereum e questo naturalmente potrebbe causare dei problemi devastanti. Jay Freeman è conosciuto per il suo lavoro su Cydia, Cydia è praticamente il jailbreak, il crack su iOS, sui smartphone dell'Apple. Fortunatamente Jay Freeman anziché sfruttare questo bug ha deciso di comunicarlo e per questa sua comunicazione è stato, ha avuto una reward, è stato pagato 2 milioni di dollari. Fortunatamente abbiamo trovato una persona onesta che ha addetto di questo bug anziché sfruttarlo a suo favore. Quindi anche se non sono degli Ethereum reali così come li conosciamo che sono una sorta di clone tra virgolette sull'IR2 di Optimism, ad ogni modo questo poteva aver causato un serio problema per tutta l'economia delle criptovalute perché poter stampare degli Ethereum in maniera illimitata, poteva causare seri e seri danni, fortunatamente questo bug sembra risolto. Sempre lo stesso Freeman mette in guardia ad ogni modo tutte queste blockchain nuove, anche l'IR2 piuttosto che queste altre blockchain di interoperabilità e cose varie, perché ci dice che attualmente si pensa solo a lanciare queste blockchain piuttosto che vedere la sicurezza. Questa sicurezza è fondamentale vista proprio in ottica di interoperabilità perché una falla su una blockchain interoperabile con altre blockchain potrebbe causare una serie di reazioni a catena negative per il settore delle criptovalute. Per lo staking di Luna ti faccio vedere la piattaforma Stater che abbiamo già visto in alcune occasioni, ad ogni modo questa Stater ti offre la possibilità di fare del liquid staking, ossia depositare Luna ed avere in cambio un altro token, in questo caso Luna X, che può a sua volta essere messo in staking. In questo caso mettere in staking Luna X con dei Luna ti dà un APR di circa il 29%, quindi molto interessante se sei un investitore di Luna. oltre naturalmente al 10,28% che ti viene dato come reward per lo staking di Luna. La piattaforma Stater è praticamente una piattaforma che se vogliamo farla semplice ti semplifica lo staking di Luna, quindi senza dover scegliere i validatori e roba varia, lo fa lei direttamente per te. oltre a questo partecipare con Stater ti offre anche la possibilità di avere degli airdrop in modo molto semplice, quindi senza dover star appresso a tutto, vengono fatti in maniera automatizzata, o meglio devi fare il claim, ma in maniera automatizzata ti dice tutti gli airdrop per i quali hai diritto. Ho parlato di Stater perché è previsto per domani il lancio di Edge Protocol, che è praticamente una piattaforma di land e borrow, quindi una sorta di ave per fartela semplice, per farti capire, nella quale sarà possibile depositare alcuni asset come ad esempio degli IUST, che sono i token che ti vengono rilasciati come ricevuta depositando degli UST su Mirror Protocol, sarà possibile fare del lending con diverse criptovalute dell'ecosistema di terra, è possibile avere degli API interessanti su UST, o meglio su degli IUST, la ricevuta di quando depositi su Anchor Protocol, di quando depositi UST su Anchor Protocol. Grazie a questa piattaforma è possibile addirittura fare quattro volte, aumentare di quattro volte il rendimento su Anchor Protocol, naturalmente non è esente da rischi, anche perché più loop vengono fatti, naturalmente maggiore rischio di essere liquidati. Su questo articolo trovate tutto, il link di questo articolo lo trovate nel mio canale Telegram. L'articolo del nostro amico Alessandro Omega. Un'altra strategia potrebbe essere, ad esempio, non so, su Stater, prendere dei Luna X, quindi depositando Luna, ottenere questi Luna X, questi Luna X, metterli all'interno di Edge Protocol, per prendere degli UST, e questi UST metterli in staking direttamente su Anchor Protocol. Ti vengono lasciati degli AUST e con questi AUST rimetterli direttamente qua dentro. Insomma, le possibilità sono infinite. Più giri si fanno, più passaggi si fanno, più aumentano i rischi. Il lancio di questa piattaforma è previsto per il 15, quindi domani. Quindi buttateci un occhio, vedendo un attimino se possa fare o meno al caso vostro. Oggi parliamo anche di Theta Network. Theta è una blockchain, prevalentemente incentrata sullo streaming, sui video, semplificandolo, una sorta di YouTube decentralizzato, benché anche lì, insomma, il discorso decentralizzato è molto relativo su questo Theta, ma lasciando insomma il discorso, è comunque sia molto interessante dal mio punto di vista. I token dell'ecosistema di Theta Network in questo momento sono tre, perché c'è il Theta, c'è il T-Fuel ed è uscito da poco il T-Drop. Questo T-Drop è praticamente il motore della parte NFT di tutto l'ecosistema Theta. Sempre su Theta sono stati rilasciati diversi NFT, ci sono NFT di diversi personaggi famosi, allo stato attuale non ci sono tanti scambi, ad ogni modo potrebbe essere interessante per il futuro, sta avendo un incremento di utilizzo importante, i costi sono molto bassi se paragonati chiaramente a quelli di Ethereum, tutto sta a vedere come questo marketplace e se questo marketplace prenderà piede e se ci saranno dei progetti più o meno interessanti. Se vuoi approfondire Theta ho fatto anche un video ormai più di un anno fa quando Theta aveva un prezzo di 80 centesimi di dollaro se non erro, ti lascio qua sopra il link al video qualora tu voglia approfondire maggiormente il funzionamento macro dell'ecosistema di Theta Network. Per quanto riguarda l'ultima notizia, sempre per farti capire che più aziende entrano al settore delle criptovalute, in questo caso degli NFT, Victoria's Secret vuole entrare nei metaversi in uno o più metaversi, ancora non ci è dato saperlo, ad ogni modo in questi metaversi vuole vendere direttamente i suoi prodotti, in questo caso online, non so se con NFT o anche fisicamente, c'è tutta una evoluzione che vedremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Per questo grafico ho utilizzato la piattaforma Atani completamente gratuita, utilizza il link qua sotto in descrizione con la quale puoi collegare i tuoi exchange preferiti ed operare completamente gratis, se non chiaramente pagando le file relative al tuo exchange, su tutti gli exchange con un'unica piattaforma, davvero molto interessante, il tutto naturalmente in modo molto sicuro. Ti lascio anche qua sopra il video su Atani per approfondimenti. Facciamo anche magari un gioco, fammi sapere tu qua sotto, secondo te Bitcoin, quello che farà questa settimana, se secondo te sale, scende, ritorna ai 40.000, arriva a 30.000, piuttosto che supera i 45.000, scrivilo qua sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video del Marchese del Crypto. Ciao, buona giornata.